perché ogni volta che noi compriamo qualcosa facciamo una piccola una piccola lo diamo e poi se quella è qua ai superiore dati, all'azienda eccetera eccetera ai comuni decidete a favore dei cittadini non decidete per i bilanci della Sirea decidete per la salute siete voi che dovete tutelarci la salute vi raccomando votate con coscienza è chiaro visto che le alternative moderne non sono i revamping del fuoco e nemmeno che nel riscaldamento penso che ci voglia proprio poca immaginazione per capire che aumentando la raccoglie di iniziata salviamo i posti di lavoro facciamo bene all'ambiente facciamo bene alla salute di tutti quanti e così siamo viviamo tutti felice contenti la trasformazione dello stesso in fabbrica dei materiali questo significa che non è che